Trovare un briciolo di tenerezza dove, quando e con chi meno te l'aspetti. Napoli, a casa di un vecchio avvocato, vedovo, solo e sgorbutico, il quale pare in ogni suo gesto voler allontanare i due figli rimastigli dopo la morte della moglie. Ma la tenerezza ti può raggiungere anche a domicilio e può arrivare, perché no, per mano dei nuovi vicini trasferitisi dal nord con al seguito i due bambini. Anzi, saranno proprio questi ultimi a far da ariete scardinando le resistenze da lupo solitario del vecchio che si ritroverà senza nemmeno accorgersene sempre più spesso a casa dei vicini stessi. Tenerezza, tanta tenerezza. Poi un imprevisto, un fuori programma che sconvolgerà tutto e tutti. Cinema, grande cinema. Quello di Gianni Amelio che torna ad emozionarci con questa storia tratta dal romanzo di Lorenzo Marone, La tentazione di essere felici. Dialoghi delicatissimi ed introspettivi per personaggi che portano stampato addosso tutto il loro vissuto doloroso. E grandissime interpretazioni per Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi ed il grande Renato Carpentieri. Al Cine Vittoria Locri Sala Blu da giovedì 4 maggio con orari 18, 20 e 22 prepariamoci per questo emozionante film, il nuovo per Gianni Amelio, La tenerezza. Ogni settimana dai un'occhiata alla pagina del Cine Vittoria e ovviamente l'invito di Carletto è quello di iscriverti al canale YouTube Carletto Romeo per essere sempre aggiornato online su tutti i film in uscita al tuo cinema preferito. L'appuntamento al Vittoria. Ciao a tutti e buon cinema!